Venerdì 20 settembre, bentrovati e bentrovati al Tg Rassegna Stampa, il primo appuntamento con l'informazione di Teleradiopace. Come di consueto partiamo dal meteo, in generale quello che ci aspetta è un fine settimana con tante, un po' di nuvole, ma scarse precipitazioni, almeno secondo le previsioni. Non mancheranno anche delle schiarite, soprattutto sabato. Andando nel dettaglio della giornata di oggi, su tutta la regione si prevedono nubi sparse e regolari, più intense nelle aree interne, dove non si esclude qualche debole pioggia tra la notte e il mattino. Nel pomeriggio invece, maggiori schiarite, lato costa e tempo generalmente asciutto, nubi più intense sempre nelle aree interne, come vediamo anche dalle grafiche per il pomeriggio. Venti moderati tra nord e nord-est, con locali rinforzi al mattino, mare stirato sotto costa, mosso a largo e sull'imperiese e temperature che saranno in lieve aumento. Parliamo di temperature che sulla costa andranno dai 15 ai 26 gradi e all'interno dai 7 ai 23 gradi. Diamo uno sguardo anche alla giornata di domani, sabato 21 settembre. Ancora nubi sparse su tutta la regione, senza piogge e con qualche schiarita sotto costa, soprattutto nel pomeriggio, venti da moderati a deboli setenzionali, mare generalmente poco mosso e temperature che saranno ancora in lieve aumento. Visto che parliamo di fine settimana e poi noi non andremo in onda domenica, diamo anche uno sguardo, anche se diciamo ancora presto, potete avere indicazioni precise sulla giornata di domenica. Si prevedono comunque molte nubi su tutta la regione, in intensificazione nel pomeriggio a Ponente, dove sarà possibile qualche pioggia e vento in genere debole e temperature stazionari. Quindi in generale un weekend con tante nuvole, ma anche qualche schiarita e presumibilmente poche piogge. Naturalmente poi per avere indicazioni più precise è sempre bene consultare i siti di meteo nel giorno stesso per avere naturalmente indicazioni più puntuali. Chiudiamo la pagina meteo e iniziamo a vedere cosa c'è sui giornali di oggi. Partiamo dalla prima pagina di Avvenire, vediamo armi senza limiti a Kiev, dall'Italia no bipartisan, l'Europarlamento vota l'uso in territorio russo, si smarcano con distinco, fratelli d'Italia, Partito Democratico e forzisti. La risoluzione in vista della visita di oggi di von der Leyen a Zelensky, Mosca dice così, guerra nucleare. Poi l'alluvione in Emilia Romagna, vediamo incubo alluvione ed è polemica fra governo e regione, mille sfollati e due dispersi, questo diciamo è il bilancio parziale. E poi gli altri temi all'interno del giornale, vediamo welfare sulla sanità, la tempesta si è fatta perfetta e la giornata sull'Alzheimer, malati verso i 2,3 milioni, chi li curerà? Questa è la domanda. Altro simbretto del giornale, politica estera, Nasrallah, il capo di Hezbollah, annuncia la vendetta arriverà, naturalmente si riferisce agli attacchi di Israele, gli attentati con le esplosioni dei dispositivi che ci sono stati negli scorsi giorni. E poi le vie per lo sviluppo, Panetta sprona al sud, il nord stop a Luxottica e, beata da vent'anni, nel Vangelo umile di Pina Suriano. Taglio alto e la fotonotizia, sono dedicati al nulla ostra del Papa, nei confronti del santuario di Meggiugori, vediamo Meggiugori e il nulla ostra di Francesco, nota vaticana approvata dal Papa, in Bosnia e Herzegovina, frutti positivi e nessun pronunciamento sulla sopranaturalità dei fatti. Autorizzati, culto pubblico e pellegrinaggi. Parla Marco Vignati, un viaggio che va oltre la meta, qui impari il tempo del pregare. E sul tema, sfogliando il giornale, proprio diciamo pagina 2, è dedicata a questo pronunciamento della Santa Sede, vediamo Meggiugori e il via libera del Papa, la devozione, nota della dottrina della fede, che però non si pronuncia sulla sopranaturalità delle presunte apparizioni mariane. I messaggi, rivelazioni private attribuiti alla Madonna, Fernandez sconsigliato incontrare i veggenti, ossia queste persone che dicono di aver visto la Madonna. Fernandez, che è uno dei componenti appunto del di Castero per la dottrina della fede, che si sono espressi ieri in questa conferenza stampa, appunto per spiegare quale fosse questo pronunciamento. Vediamo, alla luce di frutti spirituali immaturati in questi 40 anni, il testo della dottrina della fede, che ribadisce il siere pellegrinaggio, ma esprime criticità su alcune frasi che avrebbe pronunciato la Vergine. Qui c'è anche una cronistoria, vediamo nel 1981 la prima apparizione e poi, diciamo, tutte le altre, e anche, diciamo, tutte le date, diciamo, tra rete, importanti per quello che riguarda la storia appunto di questo santuario. Vediamo un fenomeno mondiale, un luogo visitato da un milione di fedeli all'anno. Sempre a suo avvenire, si parla dell'alluvione in Emilia-Romagna, vediamo due dispersi mille sfollati, paesi isolati, incubo alluvione sull'Emilia-Romagna. A Bagnocavallo, crollano i muri delle case, anziani messi in salvo dall'arrivo degli elicotteri, in regione caduti 250 mm d'acqua, città riparo, la furia dei fiumi colpisce i piccoli centri. Lo sconforto di famiglie evacuate già nel maggio 2023, avremo la forza di ricominciare ancora, a questo punto perché l'alluvione che aveva colpito la Romagna nel maggio 2023 ha colpito di nuovo molto fortemente sostanzialmente le stesse zone. Il governo attacca la regione sui fondi, il PD furioso esce a callaggio politico, qui appunto con riferimento al fatto che sono state più o meno le stesse zone colpite duramente all'alluvione, diciamo, si è quindi, tra virgolette, alzata una polemica appunto su chi avrebbe dovuto fare qualcosa per fare in modo che non riaccadesse. Il ministro per la protezione civile Musumeci e il vice dei trasporti Bignami hanno in ballo i milioni di euro non spesi nella prevenzione, ma la reggente Priolo ribatte e la manutenzione è stata fatta. La reggente perché appunto Priolo è la sostanzialmente presidente di regione reggente appunto dell'Emilia Romagna, dopo che il presidente eletto, Stefano Bonaccini, sostanzialmente si è dimesso da ruolo per fare l'europarlamentare. L'esecutivo, se l'Emilia Romagna lo chiede, concederemo lo stato d'emergenza, la leader Dem Schlein dice governo indecente. Sempre su avvenire, questa volta andiamo al Parlamento europeo, dove si è votato sostanzialmente sulla possibilità dell'Ucraina di utilizzare le armi che vengono date dai paesi occidentali anche in territorio russo. Vediamo il Parlamento dell'Unione europea, armi a Kiev senza limiti, no dell'Italia, Mosca, così guerra nucleare. Una risoluzione non vincolante, chiede di togliere le restrizioni all'uso degli armamenti sul territorio russo. Fratelli Italia, Partito Democratico e Forza Italia confermano lo sostegno, ma votano conto sul punto. Defezioni tra Dem e Azzurri. Defezioni inteso che alcuni componenti di questi autogruppi hanno votato non come ha votato il resto del gruppo. Il pronunciamento in vista della visita, oggi di von der Leyen e Zelensky, i russi pronti all'uso di congegni più potenti. Questo appunto perché poi la risoluzione è passata. La corsa alle almi, Stoltenberg, il 2% in difesa non basta più, il segretario uscente della Nato alza ancora l'asticella della spesa militare da parte degli stati. Ricordiamo che questo 2% del PIL come spesa in armamenti è una soglia che non è rispettata da quasi nessuno dei paesi che fanno parte della Nato, che spendono comprensibilmente anche molto meno per armamenti. Andiamo poi in Medio Oriente, vediamo Libano-Nasrallah, copia-Nasrallah, vendetta però non dico quando. Il leader di Erzbollah verte Israele, quanto avvenuto, equivale a una dichiarazione di guerra, è stato un duro colpo, un massacro di civili che ha fatto saltare tutte le linee rosse. Come un mese fa i caci israeliani sorvolano Beirut, mentre lo sceicco si ripete, restando vago, promette una dura risposta e non saranno le parole a dirvelo, ma i fatti. Questo è il momento più critico della guerra. Intanto a Ginevra l'ONU accusa il governo israeliano, violata la protezione dei bimbi, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia, accusato Israele di aver violato il Trattato Globale che protegge i diritti dei bambini, affermando che le azioni dello Stato ebraico in risposta all'attacco di Hamas il 6 ottobre hanno avuto un impatto catastrofico, comprese quelle che vengono definite gravi violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione nei territori palestinesi occupati. Le vittime delle esplosioni, ma ormai al sud è scontro diretto, vediamo 37 le vittime totali nell'esplosione di cerca persone dei walkie-talkie, 8 i feriti nel nord Israele per i razzi dei sbollati ieri, Israele ha colpito 6 siti e 2 soldati israeliani morti ieri nello scambio di colpi al confine libanese. Ricordiamo che la cosa principale è che tra queste vittime dell'attacco israeliano in Libano, oltre al fatto delle 37 vittime ci sono state moltissime persone che sono rimaste ferite, sia componenti di esbollà, sia persone che sono state coinvolte in questa esplosione che è stata indiscriminata. Andiamo adesso alla prima pagina del secolo XIX, una tangente anche da amico, la pena per Toti può aumentare, IPM versati 90 mila euro in cambio di favori, servizi sociali, ipotesi onlus per l'ex presidente. Il manager delle riparazioni navali, appunto amico, chiedeva il rinnovo della concessione. Questi sono ulteriori sviluppi che emergono dalle indagini sull'inchiesta per corruzione in Liguria. La fotonotizia è dedicata all'inizio del Salone Nautico Internazionale a Genova, apre il Salone Nautico e lancia l'allarme sostenibilità, sempre più barche ecologiche ma mancano regole e forse pure acquirenti. Salvini, rivedere il Green Deal. Evento alla scoperta di nuovi protagonisti, qua si fa riferimento e cambia nei vertici del porto e della regione. E poi i lavori dell'Uater, torni visitatori, bello il Palasport di Piano. Questo perché il Palasport di Genova, che è stato inaugurato da poco, per la prima volta ha fatto parte degli spazi in cui è allestito il Salone Nautico. Per quanto riguarda la politica regionale, l'intervista a Scagliola, che dice Forza Italia decisiva, la lista totiana non ha più senso e sembra annunciare un suo passaggio, un suo ritorno in Forza Italia, dopo aver appunto fatto parte della lista di Toti. Poi il retroscena, ex-ilva Marcegaglia, punta su Cornigliano, sganciata da Taranto. Oltre mille sfollati in Emilia, scontro tra il PD e il Ministro, alluvione Musumeci chiede il conto dei soldi spesi e Shrine li accusa appunto di essere sciacalli. Sulla guerra in Ucraina, sì dell'Unione Europea all'uso di armi in Russia, ma l'Italia si sfila. E poi in Medio Oriente le radie esplosive errosi dal Mossad, l'ira di Hezbollah. Sul secolo partiamo proprio dall'inaugurazione del Salone Nautico e da quello che è stato definito il primo faccia a faccia tra Bucci e Orlando, i due principali candidati per la presidenza della regione alle elezioni che si trattano a fine ottobre. Vediamo l'inaugurazione del Nautico, si incrociano i due sfidanti e tra le barche spunta anche Beppe Grillo. Diciamo, viene riportata anche in modo un po' colorito alcuni scambi tra i due che sono appunto almeno incontrati per la prima volta di persona in un evento pubblico da entrambi i candidati e poi si parla diciamo di chi non c'era. Il fantasma dell'inchiesta si aggira tra palco e parterre senza press, che è il soprannome con cui viene definito dal giornale Toti e Signorini, l'inaugurazione chiude un'era. I vertici decapitati di Regione Porto e le indagini hanno toccato anche l'evento e l'effetto straniante sul nuovo waterfront. E poi l'intervista a Marco Scagliola, vediamo Forza Italia sarà decisiva nelle urne, la lista Toti adesso non ha più senso, l'ex assessore regionale tornato con gli azzurri spiega le ragioni della sua scelta per le regionali. Con Giovanni c'è affetto, ha capito la mia decisione, il sindaco è la concretezza contro l'apparato. Qui il sindaco si riferisce appunto a Marco Bucci, il sindaco di Genova, candidato alle regionali appunto per il centrodestra. Intanto Fratelli d'Italia ha pronti nomi, il sindaco prepara le liste civiche, i meloniani schierano 30 candidati al Consiglio regionale Ligure e sotto il simbolo del primo cittadino anche i fedelissimi Pilloni e Bogliolo. E di nuovo sul Salone Nautico, allarme e sostenibilità, le imprese cominciano a produrre i primi esemplari di Yacht Green, ma si scopre che mancano regole e distribuzione per i nuovi carburanti. Il rischio è che si costruiscano barche che nessuno vuole comprare. Salvini va di vista la normativa ecologica dell'Europa, bisogna salvare l'industria. Qui diciamo che più che l'allarme e sostenibilità sembra l'allarme economico per i ricavi che potrebbero non esserci nella costruzione di barche sostenibili. Poi vediamo fatturato del settore ai massimi, le fasce basse iniziano a soffrire, gli ultimi dati presentati alla Kermess, Sace dice giro da fare in crescita, 8,3 miliardi di euro di vendite realizzate nel 2023, di cui oltre 4 miliardi in export. Il settore ricordiamo è quello del Salone, ossia quello della Nautica da riporto, ossia sostanzialmente le imbarcazioni che vengono utilizzate per tutto quello che non è fini commerciali, quindi diciamo semplicemente le imbarcazioni sportive oppure quelle a uso ricreativo, come ad esempio gli yacht o anche imbarcazioni più piccole. L'Italia è il maggior produttore al mondo di questo tipo di prodotti. Adesso veniamo a quelli che sono gli sviluppi sull'inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria riportati dal secolo, vediamo Toti un'altra tangente da 90 mila euro, la pena può aumentare verso il parteggiamento con confisca anche per la corruzione di Amico. Il legale dell'Expolivo commenta, sapevamo del filone dell'inchiesta, l'azienda per ora non commenta. Sostanzialmente si legge appunto in questo articolo che sembra che potrebbe esserci stata un altro fatto possibile che potrebbe essere corruzione, in cui sostanzialmente il Presidente della Liguria avrebbe avvantaggiato quindi un altro penditore, ossia Luigi Alberto Amico, numero uno di Amico e Co., che è una delle aziende principali nella riparazione degli yacht. e si inizia a essere alcune possibilità di quelli che saranno i lavori socialmente utili, a cui sarà sottoposto appunto l'ex Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, vediamo mansioni d'archivio telelavoro, così potrebbe scontare i due anni, l'ex Governatore sta per indicare dove svolgerà le 1500 ore di pubblica utilità, possibile l'incarico in ufficio per una onlus, sarà controllato da assistenti sociali. C'è poi un'intervista sul giornale a Gilberto Pichetto Frattin, il Ministro dell'Ambiente, che parla di nucleare e del piano che sembra avere l'Italia per il nucleare, o comunque che sarà probabilmente presentato nei prossimi giorni, vediamo con il nucleare 34 miliardi di risparmi, legge entro l'anno, produzione dal 2030. Il Ministro dell'Ambiente sull'Economia Verde conferma il taglio delle emissioni e il target del 2050, ma a ragione Confindustria adesso serve un percorso compatibile per le case e le auto elettriche. Qui si fanno alcune stime con i numeri del possibile impatto sull'economia italiana, appunto di un ritorno all'energia nucleare e quindi dell'apertura di nuove centrali, adesso al momento non ci sono centrali attive in Italia, ma mi avete sentito usare molto il condizionale, andarci molto cauto, nonostante sia l'inizio dell'ambiente a dirlo, perché si tratta di tecnologie che per essere in un certo senso sviluppate, o comunque per ripartire hanno bisogno di davvero molto tempo, quindi è bene usare i piedi di piombo quando si parla di annunci di questo tipo. Veniamo al G7 della Cultura che è iniziato a Napoli, tra imbarazzo e frasi in latino al Via Napoli di G7 della Cultura, l'ex ministro è il convitato di pietra nella riunione che avrebbe voluto presiedere. La Pompei l'opposizione presenta un dossier di 40 pagine di critica al sindaco della città. E sempre sul tema vediamo che l'ex ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, ha presentato una denuncia contro Maria Rosaria Boccia, vediamo depositata la quedena nei confronti dell'imprenditrice, ipotesi di tentata estorsione e violazione della privacy. Per quanto riguarda il Parco Nazionale 5 Terre, vediamo Viviani verso la Presidenza del Parco. Secondo indiscrezioni emersi nell'ultimo Consiglio Direttivo voluto dalla Presidente Donatella Bianchi, a conclusione del suo mandato, il ministro dell'Ambiente della Regione Liguria sembra aver trovato un'intesa sul nome di Lorenzo Viviani, biologo marino attualmente nel gruppo parlamentare Lega Salvini-Premio. Viviani che, appunto, ha 41 anni ed è originario di una famiglia di pescatori di Monterosso. E veniamo al caso di Cronaca, che riguarda Sestri Levanti ieri, uccide la moglie con un colpo di pistola e, diciamo, la sua motivazione, la sua giustificazione detta agli carabinieri era depressa e non voleva curarsi. L'assassino ha telefonato ai carabinieri al figlio, poi si è consegnato, litigavamo per le terapie e dice «Ho fatto una fesseria». Femminicidio a Sestri Levante, Gian Paolo Brigante, 74 anni, capitano di lungo corso, ha freddato la moglie Cristina Marini, 72 anni, nella cucina del loro appartamento. Insieme per 53 anni, finisce in tragedia un rapporto che negli ultimi tempi era diventato teso, almeno, diciamo, da quello che sembra sentendo, appunto, le sue parole, le sue dichiarazioni agli, appunto, i carabinieri. E del tema si parla molto, come ovviamente immaginabile, anche sulle pagine del Levante e si parla, ad esempio, delitto di sesso e la disperazione del figlio che dice «In un attimo ho perso la mia famiglia» e poi, naturalmente, è sequestrato il revolver porto d'armi che era stato rinnovato a luglio, appunto, per brigante e, vediamo, la pistola utilizzata dal pensionato era regolarmente detenuta e custodita in una cassetta di sicurezza separata dai proiettili, appunto, come da, diciamo, da norma. Si parla poi, diciamo, di alcune cose che hanno, appunto, riguardato la coppia della loro storia, vediamo quelle ultime vacanze in Kenya, Cristina la era sempre felice. E, naturalmente, non c'è nessuno collegamento dei due episodi, però la cosa curiosa è che, appunto, il luogo Via Antica Romana in cui è avvenuto questo delitto, appunto, nell'appartamento dei due, è vicino a dove è avvenuto un altro assassino alcuni anni fa, ossia nella sua zona, all'omicidio Livieri freddato in cantina. A luglio la condanna dei due autori è diventata definitiva. questo che accade, invece, nel, appunto, 23 novembre del 2017. Cambiamo argomento, continuiamo a sfogliare le pagine del Levante, vediamo a ripristino post-frana i lavori al cimitero, doppio cantiere a San Colombano, l'intervento a Vignale comporterà lo stop temporaneo al traffico, nella stessa frazione via al prearziale restyling del Camposanto. Il vice sindaco Zavatteri dice, si tratta di opere non rimandabili, appunto, si parla di questi due cantieri di cui, diciamo, si sapeva già che sarebbero dovuti partire da San Colombano, ma adesso siamo arrivati a un momento in cui proprio stanno per partire. L'ex portavoce del Papa ha sulle orme dei suoi avi, vediamo Don Guillermo Marcò in visita a Nascio, domani l'arrivo e la visita ai luoghi di famiglia. E poi un podcast dell'ASL4 affronta l'Alzheimer, continua il progetto divulgativo Missione Salute e la serie Rughe di Memoria durerà 20 puntate appunto dedicata all'Alzheimer. Podcast che potete sentire appunto su Spotify cercando appunto Missione Salute di ASL4. E a proposito di sanità, ieri c'è stata un'aggressione al CERT, a Lavagna, scusatemi, psicologo e infermiera aggrediti, paura negli ambulatori del CERT, i sanitari costretti a barricarsi in ufficio, liberati dalle forze dell'ordine, sono stati portati al pronto soccorso. Nuovo episodio a Lavagna, l'ASL4, condanniamo la violenza, la formazione ha aumentato la capacità di gestire queste situazioni. Si dicono poi alcuni numeri sui casi di aggressione a persone sanitarie, vediamo 112 casi di aggressione ai danni di operatori sanitari registrati all'ospedale in Lavagna dall'inizio dell'anno. 31% nei parti di degenza, 19% in ambulatori e 8% al pronto soccorso. 50-59 anni la fascia di età delle vittime degli episodi di violenza che hanno coinvolto soprattutto personale infermieristico e ostetrico e 50-69 anni la fascia di età di aggressori prevalentemente di genere maschile. Sono numeri abbastanza impressionanti, attualmente si parla di aggressioni di diverso tipo, non sempre fisiche, però comunque si parla sempre di casi in una qualche misura di violenza e 112 casi solamente all'ospedale di Lavagna nell'inizio dell'anno vuol dire che sono all'incirca uno ogni due giorni. E sempre per quanto riguarda invece le elezioni regionali vediamo a regionali Mustorge il nome a sorpresa anche Boitano in lista con Bucci le scelte del centrodestra nel Levante e tanti candidati a rapallo il PD del Tiguglio presenta la coppiata Garibaldi-Bacchella appunto qui diciamo aggiornamenti in descrizioni e altro su quelli che saranno i candidati alle regionali. Nasce uno sportello per i diritti un aiuto alle fasce deboli e a rapallo un punto delocalizzato del sistema giudiziario. Appunto nasce l'ufficio di prossimità a rapallo in collaborazione con il Ministro della Giustizia si tratta in sostanza di un punto di contatto delocalizzato con il sistema giudiziario destinato soprattutto alle cosiddette fasce deboli con l'obiettivo di fornire informazioni complete ed integrate per compiere operazioni per le quali normalmente occorre recarsi negli uffici giudiziari. L'ufficio sarà collocato negli uffici del distretto sociale al secondo piano della sede comunale di Piazza Molfino 10. E veniamo al meteo temperatura impicchiata allevanti dice addia all'estate termometro sotto i 15 gradi in Val Daveto calo anche sulla costa Arpal dice settembre instabile. Appunto dallo scorso 15 settembre temperatura in discesa vediamo inferiore ai 20 gradi le massime registrate in questi giorni sulla costa anche se ieri sono state leggermente superiori e tra i 14 e i 15 gradi le minime. Per quanto riguarda l'entroterra 15 gradi le massime e la minima a Rezzoagli è stata di un grado lunedì scorso. Veniamo allo sport partiamo dalla serie C partiamo proprio dalle squadre del Tigulio ora le rivali dell'entella stentano tra contestazioni e possibili stangate la SPAL partita da meno 3 arranca la Ternana rischia la penalizzazione tensioni ad Ascoli e Pescara. Qui si parla appunto alcune delle società diciamo storiche con più blasona appunto del girone B di serie C che si trovano in situazioni difficili soprattutto per quanto riguarda la gestione societaria. La festa è in migliaia al comunale per Tifari i Chiavaresi il club amici della vetreria celebra Gallo. La Lavagnese ora è tra le prime della classe Focacci andiamo avanti per la nostra strada che appunto si parla della Lavagnese che nel girone A di serie D ha vinto la scorsa partita intrasettimanale contro il Chisola e appunto che diciamo sta fornendo buone risposte e appunto diciamo qua si parla appunto di cercare di fare un campionato da protagonisti o comunque di rischiare meno diciamo di non rischiare di arrivare ai play out come è accaduto negli scorsi anni in cui diciamo sostanzialmente fino alle ultime giornate i bianconeri dovevano fare i punti appunto per non rischiare di giocare gli spareggi. Torniamo a parlare di serie C con il Seschi Levanti dai play off alla partenza shock pericolo legnago per il Seschi l'anno scorso i Veneti furono la sorpresa del girone A e quest'anno nel B già quattro sconfitte i prossimi avversari di corsari all'ultima spiaggia questo appunto perché la legnago Salus è stata la squadra che ha fatto peggio nel girone B peggio anche del Seschi comunque il partito piano riuscendo a fare solo un punto ultimo allenamento Valentini e il Giorno già in campo che sono gli ultimi due acquisti del Seschi Levanti sostanzialmente sono due giocatori che erano svincolati a cui il Seschi è offerto un ingaggio e oggi la partenza per il Veneto per la partita in casa del Legnago Salus Sempre sport sempre calcio ma andiamo diciamo a livello più alto parliamo di Serie A con il Grifone alla Biennale di Venezia ossia il Genoa che andrà a giocare contro il Venezia appunto in casa a Venezia vediamo dal 2022 con i Lagunari ogni sfida è stata una svolta i tifosi uniti è la prima volta di ovunque comunque il successo nel debutto in Serie B per iniziare la risalita due amichevoli a indicare necessità o dare conferme domani uno scontro che può già significare molto appunto si parla diciamo dello storico recente tra Genoa e Venezia Miretti pronto per la Sampdoria quindi probabilmente non ci sarà a Venezia ma potrà esserci mercoledì in Coppa Italia Gollini Genoa vorrei restare anni il centrocampista che ha superato l'infortunio ieri a Stronio Nautico con Frenzu per il portiere Banni recuperato per il match del Penso idea di turn over Pina Monti out davanti Ecuban e Vitigna derby non solo tensioni ultra se i tifosi temono anche il traffico chiusura autostradale e treno sostituito dal bus rischio disagi in primis per entroterra e ponente Ferrari secola New Co-Day Club si chiamerà Genova Stadium SRL l'atteso passa avanti le società genovesi verso la gestione dell'impianto l'obiettivo è quello di portare a Roma il progetto definitivo ai primi di ottobre qui si parla appunto sembra che possa esserci un accordo e ci possano essere passi decisivi appunto perché le due squadre di Genova Genova e Sampdoria abbiano prendano diciamo la gestione diretta dello stadio Luigi Ferraris che è un impianto del comune quindi diciamo dipende appunto dalla gestione del comune e appunto sembra che siano arrivati ad un accordo per sostanzialmente fondare una specie di società che permette di gestire le due squadre insieme lo stadio veniamo appunto alla Sampdoria vediamo problemi a casa la Sampdoria non ha ancora vinto Amarassi unica senza aver segnato e diciamo non ha ancora vinto in generale in questa nuova stagione torna Tutino un miglior marcatore dell'ultima B fra le mure amiche e Sottil conta sulla coppia d'attacco per il riscatto dopo Cosenza qui appunto si parla della coppia Tutino e Coda la squadra la squadra femminile della Sampdoria è stata in visita all'astronio nautico ieri vediamo uomini in visita all'astronio nautico abbiamo questa maglia sulla pelle Re, Falli, Cobaldi e Benoit in visita allo stand del club con la Di Fiorella e Invernizi Cecilia Re difensore della Sampdoria dice con la Lazio abbiamo ritrovato il vero spirito della nostra squadra ci sono margini per migliorare appunto la squadra femminile che ha iniziato il campionato da poco ma comunque diciamo sta facendo il suo per cercare comunque di ottenere una salvezza senza troppi problemi Romagnoli torna in gruppo gli Eppes si canta dal primo minuto qui appunto si parla di quella che potrebbe essere la formazione nella partita di domani che Sampdoria giocherà alle 15 in casa del Sud Tirol e con il calcio regionale chiudiamo questa pagina sportiva adesso è il momento di vedere quali sono gli appuntamenti in programma per la giornata di oggi Appuntamenti in agenda per venerdì 20 settembre per ricordare il giornalista e critico Claudio Bertieri e preannunciare il convegno in suonore che si terrà a novembre alla biblioteca universitaria la fondazione Mario Novaro propone la rievocazione di un comparto della cultura ligure particolarmente amato e investigato da Bertieri stesso appuntamento alle ore 10 e 30 al museo biblioteca dell'attore in via del seminario 10 a Genova sempre a Genova a Palazzo Tursi si terrà un incontro sul tema prevenzione della demensa non è mai troppo presto non è mai troppo tardi appuntamento alle ore 15 nel salone di rappresentanza Sestri Levante si prepara ad ospitare la mostra Palme Liguri di Thomas Roberts artista, scultore e designer di gioielli la mostra curata da Susanna Brandolino sarà inaugurata alle ore 18 e 30 in Sala Riccio al Palazzo Comunale di Piazza Matteotti numero 3 e sarà visitabile dal 21 settembre al 6 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 il sabato e la domenica dalle 9 alle 14 prevista una tre giorni intensa e ricca di appuntamenti quella che si svolgerà fino al 22 settembre all'arena Albaro Village sport senza frontiere inserito nel palinsesto ufficiale di Genova capitale europea dello sport 2024 che porterà nel quartiere di Albaro decine di eventi dedicati a grandi e piccini che avranno come filo conduttore lo sport tutto all'insegna dell'inclusività alle 15 la cerimonia di inaugurazione e poi fino alle 20 le prove sportive appuntamento in Val Graveglia in località Conscienti presso la tenso struttura Sandro Pertini per la Sagra della Natura e dei Sapori Autentici della Val Graveglia nel pomeriggio dalle 16.30 si comincia con il Cuocone un momento culinario dedicato ai bambini dalle 17.30 tavola rotonda per la promozione della biodiversità agricola del territorio della cooperativa Agricola Lavagnina infine degna conclusione di giornata con la cena alla Sagra della Natura e dei Sapori alle 19.30 apertura di stand gastronomici con piatti tipici della Val Graveglia e a seguire intrattenimento musicale con il cantante Michele si terrà alla sesta edizione della Pijama Run la corsa camminata in pigiama organizzata per sostenere i bambini malati di tumore a Genova l'evento si svolgerà presso il Porto Antico apertura del Village dalle 17 e partenza alle ore 19 al circolo virgola di via per Santa Vittoria numero 4 a Sestri Levante viene presentato il libro di Getto Viarengo giugno 1924 il tigullio nei giorni dell'assassinio di Giacomo Matteotti appuntamento alle ore 17 sempre a Sestri Levante torna la rievocazione storica dedicata all'imbarco di Elisabetta Farnese che sarà preceduta dal seminario riflessioni sul viaggio di Elisabetta Farnese che prenderà il via dalle ore 18 nella sala Bo in Corso Colombo a Carasco serata discoteca nei giardini di Via Piani organizzata dal Comitato San Marzano musica con DJ Kelly con stand gastronomici attivi dalle 19 a base di hamburger hot dog e patatine fritte alle ore 20 nell'auditorium San Francesco si terrà il primo evento collaterale della rassegna le giornate di Chiavari lo spettacolo è intitolato lo specchio di Borges un viaggio tra sogni e realtà attraverso la letteratura musica e teatro l'ingresso è libero e gratuito nel parco Nelson Mandela a Sestri Levante dalle 21 alle 23 l'associazione culturale il sestante osserva con il telescopio il doppio ammasso del Perseo e altre costellazioni visibili l'ingresso e il parcheggio sono gratuiti musica è tutto grazie per averci seguiti vi ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione di Tele Radio Pace ritorna in diretta alle 12.45 con il Tg di Tele Pace buona giornata e buona mattinata e buona giornata